Grazie. Un uomo piuttosto ingenuo incontra una prostituta, ma non riesce ad accettare il suo ruolo e per questo la invita a stare con lui. Era il 1971. E questa è, insieme a Testo Mene, Lucio Battisti. Che cosa vuoi da me? Cosa pretendi da me? Se è giusto non lo so. Elementari sì e no. La donna, donna e tu una donna sei. Che importa cosa vai? Rasta qui con me. Finchè vuoi che da mangiare c'è. Insieme a Testo Mene. Insieme a Testo Mene. Che... 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 Theory... Ehm... Adesso non lo so mai mai. Ehm... Tu prima eri sola Il campo corre e vola Vorrei spiegarmi chi sai perché Vai sempre male per me Insieme a te sto bene Ma non c'erano due cose Adesso non lo vai Anche io, sai Non ho avuto più di quella che ho la tua vita Rai... Insieme a te Grazie a tutti. Grazie.